è davvero simpatico quello che è accaduto a lorenzo stava in macchina e una signora entra mi accompagni alla stazione centrale mi è appena successo una cosa un po strana sono qua parcheggiato la mia macchina è bianca esce una signora da quella porta va dietro e sale in macchina buongiorno in porta in centrale signora non sono un taxi però è salita in macchina scoppiata a ridere il taxi dall'altro lato vedete mostra passando il taxi dovrebbe essere qua assurdo cioè assurdo la signora l'ha scambiato per un taxi assurdo veramente ma una cosa simpaticissima e lorenzo ride ovviamente